Per me è sicuramente un'emozione molto grande, soprattutto dal primo giorno che l'ho saputo è stata una cosa veramente incredibile, tento a crederci ancora, però è sicuramente un'occasione che mi farà crescere molto, è una fase in cui Trentino Volley ha deciso di dare spazio ai giovani, sia per valorizzare il lavoro che ha fatto col proprio settore giovanile, sia per dare fiducia ai ragazzi che ha costruito negli anni passati e io non posso fare altro che cogliere al volo questa possibilità che Trentino Volley mi ha dato. Con Trentino Volley hai vinto anche uno scudetto Under 20 assieme a Lanza e Fedrizi che ritroverai in squadra, quindi qualcosa di buono di quella squadra c'era? Sì, questo sta ancora una volta a significare quanto di buono abbiamo fatto nel settore giovanile e in particolar modo sia con Lanza che con Fedrizi con cui ho lavorato parecchi anni insieme quando eravamo ragazzi, adesso tutto il lavoro ha avuto un riscontro positivo tanto da ritrovarci in squadra assieme in questa prima squadra. I tifosi che non ti conoscono devono sapere che tu negli ultimi anni sei stato lontano da Trento, Mantua e Genova per guadagnare un po' di esperienze, che esperienze sono state queste? Sono state esperienze che mi hanno sicuramente fatto crescere, soprattutto mi hanno avvicinato al mondo del professionismo e sono state esperienze che io ho cercato di sfruttare al meglio appunto per cercare di tendere alla Serie A che in questo caso è arrivata prima del previsto con questa chiamata di Trento. Davanti a te avrai un libero esperto, ormai molto esperto come Colacci, ma c'è qualcuno a cui ti ispiri in questo ruolo? Beh, già Colacci è stato un libero dal quale ho voluto imparare tanto negli anni passati, adesso che ce lo avvicino sicuramente vorrò imparare il più possibile e amare lo stesso Barretto quando giocava a Trento è stato per me un esempio soprattutto in ricezione e invece per quanto riguarda gli altri liberi ci sono tanti di forze in circolazione, io ho sempre avuto molta stima per Sergio anche se mi rendo conto che adesso ci sono dei liberi ancora un po' più evoluti di lui anche perché il ruolo si sta suddividendo sia in ricezione che in difesa. Se hai molta stima di Sergio vuol dire che ti piace tanto difendere? Sì, la difesa è un fondamentale che mi piace molto, è una cosa in cui devo ancora crescere, però diciamo che prioritariamente preferisco la difesa e la ricezione. Ci rivediamo ad agosto allora. Ad agosto.